Ahahahahahahaha! Ma tu guarda! E' caos! Proprio così, razza di stupidi! E questa volta ho un asso nella manica che nemmeno voi schiappe riuscirete a fermare! I Duplenders! Ecco il libro, padrone! Fantastico! E ora che è mio, userò ciò che c'è scritto per renderti ancora più forte di prima! Così sconfiggerà i nostri ospiti indesiderati! Doomlender, classe stregone! Tenete le vele!